Per noi è molto importante, sapete che il tema demanio marittimo, legato anche alla questione famosa delle normative legate alla Bocesta, è un argomento molto sentito da tante realtà del territorio, delle balnearie e le problematiche sono molte. Io vi voglio ringraziare, augurare buon lavoro perché il vostro lavoro è prezioso ed è utilissimo per quello che sarà poi il lavoro della riunione con i miei colleghi alle 14.30 più tardi sempre in questa sede, quindi io vi ringrazio per la disponibilità, perché siete anche intervenuti tutti numerosi, avete risposto con molta puntualità alla nostra richiesta di incontro, proprio perché crediamo sia opportuno, proprio anche perché c'è un po' di confusione su questo tema particolarmente delicato, poter dare nel più breve tempo possibile quello che mi auguro è una risposta che possa essere condivisa da tutte le regioni al governo per sensibilizzarlo su una tematica dove credo che sia fondamentale l'intervento del governo. Io ho avuto modo di parlare recentemente col mio ministro Costa del rapporto con le regioni, l'ho trovato molto disponibile, molto attento e sensibile a questo tema e quindi contiamo di costruire con loro, con lui e con il governo, un rapporto proficuo di arrivare a qualche risultato.